eeeh ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo io sono Mr. Mario e oggi siamo tornati con Clash Royale se notate qualche differenza ragazzi è perché ho dovuto cambiare account, per fortuna sono riuscito a ritrovare tutte le carte che avevo trovato ho fatto un nuovo deck micidiale che usavo sull'altro mio account peccato perché non ho gli Archerial 4 ma ce li ho al 3 e questo è il deck vi assicuro è micidiale in un episodio che non uscirà mai che doveva essere questo abbiamo spaccato tutto ragazzi abbiamo fatto un casino assurdo ci mancano 89 trofei per arrivare in arena 2 ho cambiato anche clan sempre pieno ok quindi partiamo prima partita dopo una settimana sarà stata ma neanche ma forse una settimana sarà stata in questi giorni ragazzi ho caricato davvero tantissimi video anche perché alcuni li avevo già caricati li avevo già fatti tanto tempo fa tu morti tutti subito ora come il mini peccato non ci è arrivato mi sa che ok allora sono sotto i 1000 398 400 veramente tanta roba adesso andiamo a uccidergli tutto ok lì è praticamente morto lui si è concentrato più sull'attacco quindi andiamo a mettergli il barile goblin adesso gli fa sicuro una corona ora io provo a mettergli ok adesso gli metto un bel belli così belli c'ho già anche in questo account molto fortunello c'ho già il principe al 2 che è una cosa troppo bella allora io preferisco mettere lui a questo punto guarda c'ha gli arcieri più forti non ci voglio credere allora dai che gli fai tu più danno vai mini pecca vai mini pecca vai mini pecca buttiamogli il barile goblin no cosa ha fatto quanto si infame boom uccidete uccidi 854 tanta roba ragazzi tanta roba tanta tanta roba io gli metto il principe no dio ok abbiamo vinto abbiamo vinto questa prima partita dopo boh non so quanto tempo però tanta tanta di quella roba veramente tanta roba baule d'argento soltanto poi ragazzi 10 like anzi no 5 like vi insegno un trucco per trovare i bauli magici nell'arena 1 io l'ho trovato però funziona solo l'80% delle volte se no se non trovate baule magico trovate baule d'oro sicuro una cosa comunque la trovate ma doc che cosa gli abbiamo messo lord guardate come voglio subito guardate come voglio subito no no è pure lui il cucciolo di drago vabbè noi siamo in netto vantaggio rispetto a lui muore sicuro il suo ok anche il mio muore sicuro però ecco ovvio no sempre così vai abbiamo guadagnato tempo gli facciamo il danno gli facciamo il danno questa è un'arena 2 downgradato mi sa eh eh no mi sa veramente un'arena 2 downgradato non ci voleva gli metto il principe gli metto il principe poi gli sgancio ciò quanto la odio sta persona ok allora il principe è morto fine fine della storia che brutto finale andiamo a 7 ok così posso anche ti uccido ah quanto è scorretta la gente però guarda il mini pecca quante calorie starà perdendo adesso davanti moschettiere al 3 ragazzi veramente tanta cosa sta facendo questo ok tanta roba mini pecca guadagna tempo bravo si no si un colpo no non ha dato un altro colpo 700 di vita guardate quanto danno cioè tantissima roba tanto non ce la fai con le cucciole di drago abbiamo vinto anche sta partita tanta roba dovremmo essere a 370 trofei se non sbaglio comunque ci manca poco all'arena 2 371 trofei raga se vinco questa partita no in teoria mi dovrebbe mancare pochissimo ad arrivarci quindi 3 partite ci arriverei altre 2 partite ci arriverei allora per questa tattica buttiamo giù loro poi anzi no dai ignorantoni ora metto il principe ecco lo sapevo io questa è la tipica persona media che fa queste cose guardate quanto da no 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 non radischeletri quella la odio più dei svoltini cavolo giratevi male uccidete uccidi uccidi no si bravo si muori male ok vai perché me l'ha messo dopo non lo so perché faccio questa voce non lo so manco questo però vabbè basta mi irritante mi irrito no il wifi no no non adesso non ora quanto lo odio sto wifi c'è regà si è spento pure il router vabbè quanto non ci credo se vabbè come no togliamo il wifi io non so cosa dire a questo punto ragazzi c'è solo una cosa da fare togliere il clash royale e riaprirlo cavolo regà stavamo così bene vincendo ora andiamo a perdere ma su ma svegliatevi server di cartone c'hanno questi no regà dai e niente ragazzi la partita è andata ci ha messo tre ore questo e quindi noi adesso dobbiamo andare a farci altre due partite per andare a comandare insomma ok allora allora ragazzi abbiamo la connessione dei poveri mi continua a calare la connessione infatti vedete è lentissimo a caricare ok ok allora stiamo facendo tanto danno siamo già a 500 di danno ok ci siamo quasi dai e vai 1 a 0 per noi noi intanto gli mandiamo a 300 di vita ragazzi ha sprecato gli elisir quindi abbiamo vinto altri 30 trofei ora ci manca ufficialmente una sola partita per vincere il titolo in arena 2 apriamo prima il baule della corona vediamo cosa troviamo uh bella abbiamo sbloccato la paga ragazzi epica no mi era uscita c'era la epica la dentro perché mi volete così male c'ho già le frecce al 5 ragazzi buon segno buon segno ultima partita per oggi vediamo se riusciremo ad entrare nella bene amata arena 2 sarebbe già un buon passo e gli mandiamo anche questo anche lui è livello 4 però lui è un po' più avanzato molto buono siamo già a 790 molto buono noi gli ripaghiamo il principe con il suo stesso principe ragazzi e lui col mini pecca ovvio ok ragazzi ce la dovremmo fare lo stesso ce l'abbiamo fatta lo stesso allora il principe è arrivato anche ha dato un colpo fino alla fine ragazzi vive fino alla fine 1600 di vita 1300 di vita tanta roba che ha messo la valchira di là buon segno buon segno ragazzi buon segno ragazzi buon segno no no raga no 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 non ci credo 87 dai sì 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 arena 2 arena 2 vai così con l'arena 2 va bene ragazzi anche per oggi è tutto finalmente abbiamo l'arena 2 guardate quanta bella roba ancora ci manca soltanto la fulmine e la strega e gli scheletrini e poi abbiamo finito tutte queste due collezioni va bene ragazzi sapete cosa posso vi dirvi che per oggi è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto iscrivetevi al mio e al canale di Lucchino King e noi ci vediamo alla prossima ciao